Sono Torre911 e bentornati in questo vecchio video. Anche se questa sembra l'ambientazione di un true crime, non siamo di fronte a nessun mistero irrisolto, bensì davanti a un fenomeno paranormale, ovvero questo. L'allentamento della ruota posteriore durante la corsa. Fenomeno che conosce molto bene chi guida una turbo levo fino al modello 2018 o una turbo kenevo fino al modello 2019. Diciamo quelle levo e kenevo ancora con l'ammortizzatore centrale. Sono qui ancora a parlarne perché questo è ancora oggi un modello apprezzatissimo e ancora fantastico da guidare e perché tempo fa ho dovuto cancellare il vecchio video che avevo fatto a riguardo. Ho dovuto eliminarlo per motivi diciamo esterni, ma comunque tengo a precisare che stiamo parlando di ottime biciclette. E quello che vedremo oggi è una semplice manutenzione con qualche accorgimento dato da me. Quindi procediamo subito. Attenzione, vi butterò dentro alcune vecchie clip così non devo rifare tutte le riprese e vi metterò però le parti aggiornate. Vi consiglio di guardare il video in modo completo. Infatti se non avete tempo in questo momento di guardarlo guardatelo un'altra volta perché se vi perderete qualche passaggio a un certo punto arriverete in cui la ruota è completamente smontata e non capirete proprio perché. Quindi come sempre bando alle ciance e ciancio alle bande. Iniziamo. Step number one naturalmente è togliere la ruota. Vi ho anche ridoppiato il video. Si sente eh? Per la qualità dell'immagine invece non posso farci nulla. Quelle so e quelle restano. Prima di tutto andiamo a vedere cosa ci sarebbe per fare questo lavoro. Allora, innanzitutto sempre un paio di guanti per lavorare in sicurezza. Anche perché dopo andremo a scaldare dei pezzi e è meglio non bruciarsi. Un pacchetto di brugole. Il papà della meccanica. Il nostro martello. Chiave piatta per mozzi modificata poi vi spiego come. Una chiave inglese da 19. Una chiave inglese da 12. Questo che è un pezzettino di barra esagonale da 12 mm. Se trovate un dado da 12 non so se esiste. Va bene anche un dado da 12 poi capirete dove va messo. Questa qui che è una boccola da 24 mm che misura precisamente 31 mm e 8. Ci servirà per inserire i cuscinetti perché vi farò vedere come svolgere questo lavoro con degli attrezzi un po' trovati in casa. Insomma, non tutti hanno un'officina a disposizione per fare questi lavori. Quindi sto cercando di fare lavori un po' per tutti. Inoltre, una chiave Torx da 25. Questa cosa è un po' più ricercata però questa qua la dovete avere per forza. Ah, non serve naturalmente il cricchetto. Il cricchetto è sempre una comodità ma se l'avete anche a forma di cacciavite. Importante che sia una Torx da 25. Inoltre, un perno ad esempio come questo che misura circa 15 mm. Comunque è uno spezzone di ferro, quello che trovate. Se lo trovate in ottone è ancora molto meglio. 15 mm direi non di più che vi serve per andare poi a rimuovere i cuscinetti. Fra poco lo vedremo. Dobbiamo procedere con lo smontare le 6 viti che tengono il disco del freno. Fate attenzione perché 4 di queste viti sono più corte. 2 sono più lunghe perché ospitano il sensore di velocità. La testa della vite non è la classica brugola, bensì è una Torx. Nello specifico una Torx da 25. Lo vediamo perché hanno questa forma, diciamo, stellare. Andiamo a smontare tutte e 6 le viti. Quando andate a svitarle, svitate magari prima un pochino una verso la sinistra, poi una verso destra, una verso l'alto, una verso il basso. Non so se avete mai visto un gommista cambiare delle ruote su un'auto. Ecco, fate come lui. Fate un movimento, diciamo, anche qui stellare. Andiamo a rimuovere le viti completamente. Fate attenzione perché sotto queste viti ci sono dei fermi. Sono 3 in tutto. E vanno a bloccare le viti in modo 2 a 2. Sono una protezione e servono ad evitare che le viti si allentino con le vibrazioni. Hanno un senso di montaggio ma non preoccupatevi. Questi piccoli fermi hanno una scritta top incisa e va messa verso l'esterno. Questi fermi andrebbero sostituiti ogni volta che si smonta il disco. Io personalmente li rimonto anche 2-3 volte e non ho mai avuto problemi. Ed eccoci ritornati al 2023. Adesso, come vedete, il mozzo è stato smontato perché oggigiorno queste ruote qui non le utilizzo più. Questo non perché fossero delle cattive ruote ma perché ho seguito la massa. Oggigiorno va di moda la mallet, ovvero la 29 pollice all'anteriore e la 27,5 pollice al posteriore e quindi ho voluto rivedere i cerchi che montavo. A questo mozzo però ci ero affezionato. Alla fine l'ho smontato e l'ho tenuto da parte. Un bel salto temporale ma non spaventatevi. Questa è sempre la nostra ruota ma senza cerchio e senza raggi. In effetti ho mantenuto solamente il mozzo. Siamo tornati appunto nel 2023 e quindi adesso finiamo con riprendere la parte del video dove stavo smontando il disco del freno. Smontato il disco del freno, attenzione, è tutto uguale al vostro caso. Anche se non vedete più la ruota è la stessa identica cosa. Abbiamo il mozzo, abbiamo la nostra cassetta col pacco pignoni, tutto montato nello stesso modo. Andiamo a prendere le chiavi di cui vi parlavo all'inizio del video, ovvero la 19 e la chiave da mozzi. Questa chiave da mozzi come detto è stata limata e portata alla misura dei 19 mm. Se non trovate la 19 perché è un po' difficile da trovare, si può prendere una 17 e limarla per 2 mm. Andiamo quindi ad incastrare la 19 piatta qui dietro. Andiamo bene a vedere. Guardate, c'è un dado nero e un dado grigio. Noi andiamo a prendere la nostra 19 piatta e andiamo a incastrarla nel dado nero. Farà una presa perfetta e soprattutto riuscirà a passarci perché l'abbiamo limata leggermente. Quindi ora dobbiamo tenere fermo quello che è il dado nero. Con la chiave 19 normale classica andiamo a imprimere una forza di questo tipo. Quindi questa andrà verso di qua, questa andrà verso di là. E andiamo ad aprire il dado grigio. Manteniamo fermo il nero. Eccolo qui, il nostro dado grigio. L'abbiamo rimosso. Ora prendiamo il nostro pezzettino di barra esagonale da 12. Lo inseriamo dentro. Prendiamo la nostra chiave, naturalmente da 12. Riprendiamo ancora la nostra chiave modificata. E andiamo ad allentare anche il dado nero. Naturalmente questi qua erano appena appena appoggiati, quindi ho fatto poca fatica. Potreste fare un pochino di fatica in più voi. Andiamo a togliere completamente il dado nero. Anche la chiave. Andiamo a togliere il dado nero. Eccolo qui. E adesso semplicemente facciamo uscire tutto l'asse facendolo scivolare verso il basso. Cosa verrà fuori? Verrà fuori il pacco pignoni con il corpetto e l'asse. Non spalentatevi, perché rimontare il tutto non è così difficile. Poi lo andremo a vedere. Altrimenti potreste tranquillamente togliere il pacco pignoni prima di fare questo lavoro. Ma in realtà vedete dopo che non ce n'è neanche bisogno. Qui si rimuove questo piccolo washer, questa piccola guarnizione che va a proteggere il nostro cuscinetto. E adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo portare fuori questo cuscinetto qui. Come possiamo fare? Possiamo prendere il phon, quello per carrozzieri, per scaldare tutto intorno al nostro pezzo. E così facendo ci renderà più facile l'operazione di togliere il cuscinetto. Andiamo quindi a prendere quell'oggetto di cui parlavamo prima per battere fuori il nostro cuscinetto. Passiamo all'interno di un cuscinetto e iniziamo a battere lateralmente sul nostro cuscinetto. Allora, questa operazione qui potrebbe danneggiarlo irrimediabilmente. Però se lo fate pian pianino, come vedete, il cuscinetto riesce ad uscire. Come vedete io giro spesso il mosso. Sto cercando di colpire il cuscinetto con delicatezza su punti sempre diversi. Poi inizio a guardare e vedo che da una parte è già uscito, da una parte devo uscire. Quindi vado dove deve ancora uscire. Inclino il mio battacchio e inizio a battere su quel punto. Certo, se voi volete fare i fighi, eccolo lì. Se voi volete fare i fighi, ci sono degli estrattori, ve li potete comprare. Però è anche vero che ci servirebbe sempre un estrattore per ogni misura. E quindi, meno flexo ma non troppo. Bene, siamo arrivati a questo punto qui. Naturalmente qui ci dovrebbe essere la ruota, ve lo ricordo. Però è per questo motivo che non potevate schippare il video. Abbiamo rimosso il cuscinetto dalla parte del disco freno. E adesso cosa combiniamo? Cos'è che va a risolvere veramente questa situazione? Mi sembra di essere tipo Giorgio Mastrota che vende le pentole. Ma vado a prenderlo. Eccolo qua. Il tubetto. Cos'è sto tubetto qua? È l'argomento del video. Ovvero, questo qui, questo tubetto, non è mai oltre che un distanziale che va all'interno del nostro mozzo e ci permette di poter montare il cuscinetto nella misura corretta di far passare, guardate, l'asse del corpetto scusate di far passare l'asse del corpetto all'interno del mozzo eccolo lì e di poter rimettere il cuscinetto in posizione. A cosa serve questa modifica? Questa modifica serve per poter chiudere questo dado qui il dado nero famoso che abbiamo tolto prima e il contro dado con la forza corretta. Qual è il problema di questo mozzo qui? Che non avendo la battuta interna questa battuta qui quando noi andiamo a chiudere questi due viti qua il dado e il contro dado scusate, il dado e il contro dado andiamo ad imprimere una forza su questo cuscinetto che sarà vedete che sarà tutta scaricata sull'anello centrale del cuscinetto sull'anello piccolo del cuscinetto. Cosa significa? Che se noi andiamo a dare tanta forza perché giustamente vogliamo chiudere il mozzo vogliamo che la ruota non si smuova che non si sganci mentre corriamo noi semplicemente stiamo imprimendo una forza laterale al cuscinetto però questi cuscinetti qui che sono cuscinetti standard sono cuscinetti che possono sopportare dei grossi carichi radiali ovvero che arrivano in questo modo qui come quando noi andiamo a pedalare ma quando ma quando subiscono dei carichi assiali o dei carichi laterali soprattutto in questo modo quando la parte interna spinge verso l'esterno e la parte esterna spinge verso l'interno andiamo a spaccare i nostri cuscinetti ed è per questo motivo che non avendo questi mozzi una battuta interna noi chiudiamo forte i nostri registri ci facciamo il nostro bel giro e poi iniziamo a sentire che la ruota inizia a ondeggiare leggermente perché si stanno rompendo i cuscinetti e non c'è niente da fare non è una cosa che ho inventato io perché in tantissimi mozzi io direi oserei dire quasi tutti i mozzi del mondo che vengono strutturati in questo modo c'è sempre un distanziale all'interno che permette di non far schiacciare questi due cuscinetti uno contro l'altro senza avere una battuta di confronto tant'è vero che nel nuovo modello di Levo infatti per questo motivo questo video è relativo solo ai vecchi modelli nel nuovo modello questa battuta qui è stata praticamente inglobata sull'asse principale sì poi c'è da dire che l'asse è cambiato leggermente perché in effetti non ha più i registri questi registri però in realtà sono molto belli perché vi permettono di fare una regolazione di fino i nuovi mozzi non hanno più questo problema perché giustamente hanno questa parte inglobata già nell'asse quindi non vi si smolla per questo motivo non vi si smolla l'asse perché i cuscinetti stanno schiacciando sul nulla però perdono questa bellissima regolazione che se fatta bene vi permette di girare veramente per tanti tanti chilometri senza avere rogne naturalmente gran calma anche con questa soluzione ci possono avere qualche rogna cioè è normale che dei cuscinetti comunque si possano rovinare nel tempo però non è neanche normale andare a premere sui cuscinetti senza avere un contrasto interno su quella che è la pista interna sulla pista più piccola perché molti di voi su facebook sui vari social mi hanno scritto oh ma io ci metto un po' di frenafiletti e sono a posto sì ho capito che tu ci metti i frenafiletti sulla vite e la vite non si smolla più il problema è che se tu la premi alla giusta forza volente o nolente ci fai un tot di chilometri e i cuscinetti fanno altro che soffrire e spaccarsi non c'è niente da fare oppure che mi diceva no perché non hai chiuso bene il perno sì ho capito posso chiuderlo quante volte vuoi ma se il cuscinetto dietro non c'ha la battuta non ne veniamo fuori quindi cosa andiamo a fare andiamo a rimontare il tutto per non rendere questo video una telenovela andiamo a rimontare il nostro pacco pignoni ecco vi faccio vedere tanto è facile che non serviva togliere il pacco pignoni dal corpetto perché quando andate a montarlo cosa fate girate un pochino all'indietro e il mozzo va nella sua posizione questi mozzi qua sono fantastici anche per questo motivo con tanti altri mozzi si fa una fatica bestiale e tante volte bisogna togliere il pacco pignoni quindi abbiamo tutto montato andiamo a mettere il nostro distanziale e adesso semplicemente torniamo a riscaldare e andiamo a rimontare il nostro cuscinetto se volete metteteci anche un pochettino di grasso prima di andare a rimontarlo lo fa scivolare sicuramente meglio per rimontarlo eh ragazzi anche qui ci vorrebbe il contrario dell'estrattore ci vorrebbe sempre l'attrezzatura adeguata però ragazzi io vi ripeto non sempre c'è tutto a disposizione quindi io ho trovato questa bella chiave qui una chiave da 24 nella bussolina una bella bussolina prendo il mozzo comunque in questo caso prenderei la ruota magari la appoggerai sul banco scusate ho sganciato tutto riaggancio prenderei prenderei la bussolina mi appoggerai magari sul banco la stessa cosa e vado a reinserire e vado a reinserire il cuscinetto in questo modo quattro colpi e voilà cuscinetto reinserito ripeto prendere l'ammazzato il cuscinetto non è mai la cosa migliore in questo modo qui con questo tipo di attrezzatura specifica riusciamo a colpire il cuscinetto nel diametro esterno che è quello che sta andando ad innestarsi con il mozzo quindi si riesce a fare questa operazione con delicatezza senza rovinare nulla andiamo a rimettere il nostro para olio che tra l'altro non deve essere neanche lui ma va bene in questo caso lo teniamo come esempio e andiamo a rimettere il nostro controdado anche qui teniamo fermo teniamo fermo l'asse sempre con il nostro pezzettino da 12 avvito chiave da 19 e vado ad effettuare la mia regolazione vado ad effettuare la mia regolazione in questa maniera qui ovvero vado a chiudere fino a che sento che il dado nero non riesce più a girare però non vado a sforzare eccolo lì mi appoggio sul cuscino non devo essere leggerissimo ma neanche troppo forte per quale motivo perché il nostro mozzo deve girare adesso è molto difficile farvelo vedere senza la ruota ma deve girare in modo libero dopo aver messo questo dado qui vado a mettere il contro dado in quale modo questo diciamo con la parte non fresata verso l'esterno andiamo ad avvitare il contro dado che è quello grigio e anche qui cosa facciamo chiave da 19 e chiave da 19 adesso andrò in questo modo qui qui e di qui e andrò a chiudere il tutto però con una leggera insistenza con un po' di forza in più su questa chiave qui in modo che questi dadi tendino a uscire dal nostro mozzo in modo da non andare a caricare troppo il nostro cuscinetto la regolazione perfetta ci permetterà infatti di sentire che la ruota gira nel migliore dei modi qui naturalmente non avendo la ruota diventa difficile farla girare sembra che sia bloccata ma in realtà con l'inerzia che poi ha la ruota il cerchio e la gomma girerebbe in modo libero bene arrivati a questo punto semplicemente non dovete far altro che rimontare il vostro disco magari non montate un disco preso come questo che è condizioni veramente orrende mettiamo i tre fermi mettiamo i sensori di velocità ve lo faccio vedere in grafica perché adesso non ho più questi questi pezzi voi non dovete fare altro che rimontare il tutto e rimontare la ruota sulla bicicletta se avete domande comunque scrivetela qui sotto nei commenti come avere le misure per poter replicare questo distanziale magari andando da un tornitore che ve lo può fare con pochi euro scrivete qua sotto nei commenti dopo esservi iscritti al canale mi scrivete un messaggio che ho scritto che avete bisogno delle misure e vi manderò un messaggio in privato con le misure del pezzo però iscrivetevi al canale se no ragazzi qua è troppo facile bene spero che questo video vi sia piaciuto e spero anche che vi possa far rivolutare questo vecchio modello di bicicletta che è ancora veramente fantastica cliccate mi piace se avete domande da fare scrivetelo qui sotto nei commenti e noi ci vediamo alla prossima ragazzi ciao